Ragazzi siamo arrivati al castello di Stirling Stamattina la giornata era abbastanza buona, adesso il cielo si è incupito Però non ci possiamo lamentare Bandierone scozzese Britannico direi Britannico Bravo, è me corretto No, a te non ti voglio filmare Sei brutto Guarda qua il monumento di Google Sei brutto Beh, non ci resta che entrare e vedere un po' cosa si dice Andiamo a questa veduta panoramica Niente male Niente niente male Ok Sto filmando eh Vediamo che succede di qua Wow Oh Mannaggia Pesce dove stiamo? Spagnoli Dove stiamo pesce? Siamo qua Qua Vabbè ragazzi credo che ci metteremo un'oretta e passa per visitarlo tutto E questo è il nostro giorno Questo è il nostro giorno Sesto giorno Sesto giorno E ok Come qualcuno mi ha suggerito di salutarvi Devo dire Sì 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 Ciao ragazzi Ciao